Quando penso alla biodinamica penso a un luogo vivo, un luogo dove esistano spazi per colori, per profumi, per suoni, per insetti, per animali, per umani e che questo luogo sia un luogo di pace, un luogo dove mentre tu cammini possa sentire che sei una parte di tutto. Ecco stamattina camminando per i nostri terreni ho proprio sentito questo e te lo volevo comunicare con questo breve video. Buona giornata!